Gian Paolo Bellini, che dire, una delle migliori partite da parte tua? Preferivo che non lo fosse stato e preferivo vincere onestamente perché effettivamente così. Dispiace perché abbiamo preso gol magari su una circostanza dove dovevamo sicuramente potevamo lavorare meglio e anche perché poi alla lunga forse la partita la stavamo controllando anche se non stavamo facendo una bellissima partita. Peccato, pareggio che non dico che ci sta stretto però ci lascia un po' di amaro in bocca ma bisogna sempre guardare avanti. Come si dice in situazioni come queste, l'abbiamo detto anche a Thomas, due punti persi, possiamo dire così. Sì, a caldo diciamo di sì. Poi chiaramente cerchiamo di vedere anche l'aspetto positivo nel senso che magari alla luce degli altri risultati comunque abbiamo anzi forse allungato un attimino sulla zona retrocessione. Peccato perché con quei due punti forse potevamo stare ancora meglio però è inutile stare qui a pensarci. È giusto pensarci adesso che è appena finita la partita ma poi è giusto rituffarsi subito con la testa nella prossima. Anche perché questa Atalanta dimostra ogni partita che passa di essere un grande gruppo sempre che ce ne fosse bisogno? Sì, però il calcio è questo. Nel senso che il passato è quello che si è fatto purtroppo bene o male non conta niente. Bisogna sempre dimostrare. Noi lo stiamo dimostrando partita dopo partita e cerchiamo di dimostrarlo fino alla fine perché credo che questi due mesi siano poi alla fine quelli che rimangono nella mente sia della gente che degli addetti ai lavori che di noi stessi giocatori perché sono quelli un po' fondamentali. Quindi se non li affrontiamo bene può essere che tutto quello che abbiamo fatto di buono poi ce lo dimentica la gente e magari non è servito a niente. Quindi è importante guardare avanti con fiducia.